Buongiorno a tutti, buongiorno da Paolo De Castro, da qui da Bruxelles, dal Parlamento europeo, un saluto al magnifico Rettore e naturalmente a Costanza Onorati che ha voluto invitarmi a questo vostro importante convegno, anche se non posso essere fisicamente con voi a Milano, mi faceva davvero piacere portare un contributo attraverso questo video. Il titolo, la nuova politica agricola tra food security e food safety è un titolo molto interessante e anche provocatorio, spesso purtroppo confondiamo questi due concetti nel nostro Paese avendo la stessa traduzione sicurezza alimentare, in realtà nascondono due profondi e completamente diversi aspetti della nostra politica agricola, noi ci siamo occupati molto di food safety e lavoriamo molto come Parlamento europeo nel garantire i cibi dai nostri consumatori e sicuramente abbiamo fatto dei grandi passi avanti grazie anche all'istituzione in Italia e in Italia per tutta Europa dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, l'EFSA appunto di Parma ma poco ci siamo occupati della food security, cioè del tema della sicurezza degli approvvigionamenti alimentari oggi questo tema è sentito poco, è sentito poco perché ancora viviamo nell'epoca dell'abbondanza viviamo nella convinzione che il cibo sia a sufficienza per tutti e che si tratti solo di un problema di redistribuzione tra i ricchi e i poveri del mondo, in realtà questo non è più così e non è più così dalla fine degli anni 90, da quando l'incremento della domanda mondiale di beni alimentari è cresciuto e ha superato nel tasso annuale l'incremento della produzione annuale di cibo ecco che questa dispunzione crea una strutturale carenza che a seconda degli anni, a seconda delle condizioni climatiche a seconda delle varie decisioni degli stati nel mondo possono rappresentare momenti di ascesa o momenti di riduzione di prezzo, siamo in presenza infatti di una fortissima volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli ma l'elemento di fondo, il motore di questo grande cambiamento è questa fortissima domanda alimentare che è cresciuta nei paesi asiatici, è cresciuta soprattutto in Cina, in India, in altri grandi paesi del mondo dove i consumi alimentari si stanno anche se lentamente ma gradualmente avvicinando i consumi di noi occidentali basti pensare a quello che è successo in Cina con l'aumento del consumo di carne o di latte che oggi è ancora molto lontano dal nostro noi siamo intorno ai 100 kg pro capite di carne in Europa contro appena i 25 kg in Cina ma voi potete immaginare cosa succede, cosa succederà se la Cina continuerà a crescere i consumi alimentari di carne perché bisognerà produrre gli alimenti, i cereali, i mais, la soia necessari per produrre quella straordinaria aumento di produzione zootecnica quindi è evidente che l'adeguamento dei consumi sta portando ad un profondo cambiamento dei consumi alimentari e quindi è una drammatica pressione sulle risorse naturali e da qui il fenomeno del land grabbing, la corsa alla terra questa preoccupazione che sta spingendo i cinesi e non solo i cinesi con i loro fondi sovrani a comprare terra lì dove è disponibile oggi è rimasta disponibile di fatto solo l'Africa, il resto del mondo è ampiamente coltivato e quindi è lì che si stanno scatenando queste contraddizioni e anche questo braccio di ferro è evidente che questo crea un grande interrogativo il mondo può lasciare assolutamente senza regole questo accaparramento di terra e come potremo rispondere in futuro a questa crescita di domanda se le risorse naturali sono già largamente utilizzate quali miglioramenti di produttività sono necessari per riuscire a rispondere a questo momento di domanda il ruolo della ricerca, siamo nell'università di Milano Bicocca sicuramente il tema della ricerca sarà da voi toccato come potremmo rimettere al centro la ricerca in agricoltura visto che oramai il mondo occidentale, Stati Uniti compresi da anni vivendo nell'abbondanza e vivendo con la preoccupazione di smaltire prodotti alimentari in eccesso non ci stiamo più preoccupando di come migliorare e di come aumentare la produzione con meno risorse gestendo in maniera sostenibile le risorse naturali, terra e acqua innanzitutto ecco quindi i grandi interrogativi che poi sono anche i grandi interrogativi, le grandi sfide che abbiamo e che avremo a Milano con l'Expo 2015 nutrire il pianeta e energia per la vita è la grande sfida dell'umanità come farà l'umanità a produrre cibo in abbondanza per tutti e gestendo in maniera sostenibile la terra e l'acqua a disposizione è una sfida sulla quale gli ricercatori di tutto il mondo si stanno applicando e sempre di più si dovranno applicare in futuro è stato coniato anche un termine l'intensivazione sostenibile sembra una parolaccia in realtà racchiude la vera e propria sfida di oggi come riuscire a produrre di più con meno risorse come riuscire a produrre di più ma produrre in maniera sostenibile cioè facendo in modo che le risorse naturali vengano mantenute in assoluta fertilità tale per cui tra 20-30 anni quella stessa terra sarà in grado di produrre e di produrre di più ecco quindi gli interrogativi dell'Expo ecco quindi quelli che saranno le grandi sfide la PAC, la riforma della PAC ha dato una risposta a queste sfide? beh io credo che come Parlamento Europeo la risposta non può che essere negativa no, abbiamo certamente migliorato in alcuni campi abbiamo innovato la politica agricola comune introducendo attraverso il greening obbligatorio del 30% degli aiuti sicuramente maggiori impegni per gli agricoltori e questo è un dato importante perché più sostenibilità ambientale è sicuramente un fatto positivo sulle risorse naturali ma abbiamo poco preso in considerazione il grande tema della sicurezza alimentare e della necessità di gestire meglio le risorse per produrre di più perché il tema oggi non è solo redistribuire ma è anche quello di riuscire a dare una risposta concreta a questo straordinario aumento di domanda alimentare a cui facevamo riferimento prima ecco perché ci auguriamo che con la prossima commissione la commissione Juncker, il nuovo commissario all'agricoltura irlandese Phil Hogan si possa riprendere questo discorso è interrotto con la riforma della PAC che attraverso la riforma di metà percorso nel 2016-2017 riuscire a dare una maggiore forza verso quell'innovazione, verso quel miglioramento tecnologico verso quella centralità dell'impresa nel rispetto di una sostenibilità ambientale certamente ma insieme a una sostenibilità economica e sociale che poi è alla base della vitalità delle nostre imprese e del nostro sistema agroalimentare dunque ancora tanto da fare in Europa per migliorare questa politica ma per rimettere al centro queste grandi sfide di cui noi oggi proprio in Italia, a Milano avremo questa grande responsabilità riuscire almeno a farci le domande giuste se non saremo capaci di trovare le risposte giuste auguri di buon lavoro auguri a tutti voi e un caro saluto da Paolo De Castro Bene, devo dire un intervento breve ma forse apprezzato anche per quello e che introduce il tema forse da un'angolazione che è stata accennata nelle prime relazioni di questa mattina ma che qui mi sembra molto chiaramente individuata e cioè la differenza tra quella differenza che nel linguaggio italiano sfuma e sfugge tra la cosiddetta food security e la cosiddetta food safety e quindi due tematiche che tranno un punto di coincidenza ma che hanno in realtà poi dinamiche molto differenze una cosa è la sicurezza dell'alimento in sé la sicurezza alimentare dal punto di vista tecnico una cosa invece è la sicurezza in italiano non si può tradurre che così al diritto agli alimenti in generale quindi al cibo sicurezza di avere del cibo in generale per le generazioni future prospettiva che è meno tecnica anche tecnica che si può risolvere anche in una dimensione tecnica ma che coinvolge evidentemente tutta una tematica di garanzia dei diritti diritti fondamentali, diritto alla sopravvivenza da un certo punto di vista sfide evidentemente importantissime che nessuno Stato può risolvere da solo che non sono affrontabili unilateralmente dal singolo Stato e nelle quali quindi il ruolo la funzione, gli strumenti della cooperazione internazionale intesa in senso ampio quindi innanzitutto per noi l'Unione Europea ma di più le organizzazioni internazionali in senso ampio quindi le Nazioni Unite e altre forme di cooperazione internazionale che si stanno delineando svolgono un ruolo importantissimo io quindi vi propongo una piccola variazione sul programma con l'accordo dei relatori e mi manterrei sul piano dell'Unione Europea per passare la parola al Dottor Gabbi e al ruolo dell'Unione Europea dal punto di vista della sicurezza alimentare quindi sul piano della sicurezza alimentare con l'istituzione di questa agenzia di cui forse abbiamo sentito parlare come nome ma credo meno come contenuti che è l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare o cosiddetta EFSA nella European Food Safety Authority che ha sede a Parma agenzia che è stata istituita nel 2002 dalla Commissione dall'Unione Europea e che sperando di non dire già cose che poi il Dottor Gabbi riprenderà ma insomma l'accenno rapidamente costituisce la chiave di volta di una strategia dell'Unione Europea basata su un distinguo tra chi fa le politiche di sicurezza e quindi chi adotta gli atti normativi di cui stiamo parlando e questo soggetto è la Commissione e poi il Consiglio e poi il Parlamento e poi gli Stati quindi l'Unione Europea come legislatore distinta e separata dall'agenzia che invece ha il compito di svolgere i controlli e di garantire il livello tecnico il livello scientifico di sicurezza degli alimenti quindi il concetto è di tenere indipendente il legislatore dall'istituzione tecnica e per questa ragione è stata istituita nel 2002 un'agenzia che è del tutto indipendente dalla Commissione che fa dell'indipendenza e dell'autonomia forse il suo punto di maggior forza e che ha sede in Italia di questa agenzia che è strutturata al solito in modo molto importante c'è un ampio servizio giuridico di cui il dottor Gabbi qui presente è uno dei funzionari e che quindi dalle sue parole possiamo sentire meglio di che cosa si occupa l'EFSA e di che cosa quali sono gli strumenti di cui l'EFSA dispone quindi lo ringrazio di partecipare a questo convegno e gli do la parola di cui l'EFSA dispone è un'amplice di cui l'EFSA dispone di cui l'EFSA dispone